Tempo di cambiare, episodio 8 Ehi ciao, sono Italo Cillo e questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è l'indirizzo a cui trovi tutti gli episodi archiviati, passati, presenti e futuri. Se fai una cosa, mettiti le mani in tasca e conta i soldi che tieni in tasca. Perché stiamo diventando sempre più poveri? Io, tu, in quanto individui, in quanto società, perché stiamo diventando sempre più poveri? È casuale? C'è una crisi? Ma la crisi è casuale, da cosa dipende? Perché l'Italia ha ceduto ogni sovranità nazionale a un gruppo di potere privato, europeo, non eletto, governato da persone nominate da altri? E io e te non abbiamo votato per questo, non abbiamo scelto in favore di questo. Perché l'Italia in questo momento è governata da un uomo, senza compassione, senza legittimazione popolare? Gli hanno tirato le cose appresso e l'hanno contestato perfino quando è andato a visitare le vittime nel terremoto. Senza legittimazione popolare, messo lì da qualcun altro? Per tassare i cittadini e spedire il ricavato direttamente nelle tasche dei banchieri privati? Perché sta accadendo tutto questo? Se tu non ti rendi conto di quello che sta accadendo, tu sei complice. Se tu non ti rendi conto di quello che sta accadendo, non hai neanche le qualifiche minime per lamentarti. Perché questa bancarotta pianificata, perché questo è una bancarotta pianificata dell'Italia, pianificata a tavolino e non solo dell'Italia. Questa è l'operazione in più larga scala dai primissimi anni 30 a oggi di bancarotta pianificata di tutte le economie del pianeta. Questa bancarotta la stanno facendo col tuo consenso. E allora il tema di questo episodio è proprio questo. È il nostro consenso. Ed è se e come possiamo ritirare il nostro consenso. Perché se prima non capiamo cosa sta accadendo col nostro consenso e che ruolo gioca il nostro consenso proprio in questo preciso momento, allora non abbiamo neanche armi per agire. Cioè non possiamo capire come fare a ritirare il nostro consenso e a cambiare lo stato di cose presenti. Guarda, si dice una frase molto saggia. Perché trionfi il male è sufficiente una sola cosa. Che le persone per bene non facciano nulla. Ma fammelo ripetere. Perché trionfi il male è sufficiente una sola cosa. Cioè che le persone per bene non facciano nulla. Ora, questa questione del consenso. Perché la sottolineo e dico che è così importante, anzi così essenziale? Anzitutto perché se non capissimo il ruolo che gioca in tutta la situazione presente, il nostro consenso, ci è molto più difficile cambiare la situazione presente. Numero uno. Numero due. Perché è importante capire che l'elite mondiale che ci governa sa benissimo che il consenso non solo è importante. È indispensabile. È di importanza vitale per continuare il loro sistema. Perché è così indispensabile per loro il nostro consenso? Perché loro sanno benissimo che l'intero universo è regolato dalla legge del libero arbitrio. È una legge più grande di loro. È una legge più grande di tutte le leggi che gli esseri umani possono fare. L'universo, in qualche modo, reagisce in favore del libero arbitrio degli individui. Anche se ci sentiamo vittime delle circostanze, qualsiasi cosa perpetrata in tuo danno in un certa misura ha bisogno del tuo consenso. Questa legge che è chiamata dal consenso o la legge del libero arbitrio è talmente universale che, penso un po' perfino nella Bibbia, il Dio, il Dio Yahweh, il Dio della Bibbia, non può obbligare Mosè a seguirlo. Non può obbligare Mosè al suo popolo a seguirlo, semplicemente non può, eppure è Dio. Anche se puoi Mauro Biglino, per piacere vai a guardarti il video di Mauro Biglino su YouTube. Mauro Biglino, sono imperdibili. Questa persona ha tradotto direttamente dall'ebraico quello che dice veramente la Bibbia e c'è tantissimo da imparare. Stessa cosa parlano tutte le scritture dei Sumeri, che sono a monte rispetto alla Bibbia e da cui la Bibbia è derivata. Ora, questo Dio, non chiamiamolo Dio perché forse non è neanche appropriato, questo Yahweh della Bibbia, anche se era armato di un'arma potentissima, che dalla descrizione biblica era un'arma al plasma, capace di incenerire qualunque cosa toccasse e lui stesso non era capace di controllare il potere di quest'arma, la famosa arca dell'alleanza, leggi la Bibbia, è tutto scritto lì. Anche se era armato di questa potente arma distruttiva, non poteva obbligare Mosè a seguirlo. Per lui fu indispensabile stipulare un'alleanza. Guarda che non sto divagando, e questo è molto importante, fili dell'attualità di cui sto per parlare. Fu obbligato a stipulare un'alleanza con il popolo ebraico, in base al quale c'erano tante clausole da rispettare, fra cui che il popolo ebraico doveva uccidere e sacrificare a Yahweh il primo genito di ogni coppia, eccetera, eccetera, eccetera. Vallo a leggere, è tutto scritto nella Bibbia. Quando poi decisero liberamente di seguire Yahweh, e Yahweh li condusse all'ingresso della terra promessa, loro si riunirono in assemblea e dissero che facciamo, continuiamo a seguirlo o no? Anzi, dissero, continuiamo a seguirlo, oppure ce l'andiamo con i vecchi Elohim che seguivamo prima, prima di conoscere Yahweh. Oppure, ancora una terza possibilità, seguiamo gli Elohim che comandano qui, in questa nuova terra in cui siamo arrivati. È tutto scritto nella Bibbia, eh? Così, liberamente, ancora una volta, decidono di seguirlo, decidono di rinnovare l'alleanza con Yahweh, e Yahweh scatena la carneficina, perché con questa arma e con i suoi seguaci distrugge tutte le città che incontra nel suo cammino, inclusi uomini, donne, vecchi e bambini. È scritto sulla Bibbia, eh? Ora, tutto questo per dire cosa? Il comando esige il consenso. Il comando ha sempre assoluto bisogno del consenso per durare, altrimenti non potrebbe durare e i potenti questo lo sanno. Ora, ci sono delle eccezioni a questa legge, la legge del consenso? Sicuramente sì. Come tutte le regole esistono tantissime eccezioni, anzi la storia è piena di eccezioni, e queste eccezioni sono proprio le pagine della storia più piene di disonore. È lì dove il genere umano ha disonorato se stesso. Perché? Perché ha disonorato la legge del consenso e la legge del libro arbitrio. E quindi, che ne so, la riduzione in schiavitù degli africani, in secoli anche abbastanza recenti, è un esempio. In anni recentissimi qui in Italia, senza andare troppo lontano, la strategia della tensione. La strage di Piazza Fontana è un esempio di calpestare la legge universale del consenso e del libro arbitrio. Perché le persone in Piazza Fontana non erano state informate. E chi ha commesso questo delitto, che ancora oggi non si sa chi è stato, e molti di noi hanno guardato il film, uscito da poco, chi ha commesso questo delitto è dannato. Chi ha ordinato questo delitto è dannato. Intendo dire per sempre, davanti alla propria coscienza. Per sempre davanti al proprio Dio, se ha un Dio, e anche se non crede in Dio. Perché questo significa agire fuori dall'onore, agire fuori dalla legge del libro arbitrio, e questo è l'atto più autodistruttivo che si possa immaginare. Equivale a un suicidio spirituale. Quando questo accade, il protagonista è totalmente disonorato. È importante capire questo concetto. Perfino nella criminalità organizzata esiste l'onore, esistono le regole. Questo non vuol dire che a volte non vengono violate, come tutte le regole, ma esistono regole e sono ferree. Esiste l'onore e viene tenuto in alta considerazione. L'esercito che invade un'azione straniera, uno degli atti più orribili che assistiamo oggi, storia recente, gli Stati Uniti d'America che invadono l'Afghanistan, l'esercito che invade un'azione straniera è obbligato a fare un avvertimento allo Stato che sta per invadere con tutte le sue richieste. Il governo del paese invaso, che sta per essere invaso, ha il libro arbitro di rispondere sì o no. Questo ovviamente è disgustoso, è crudele, è la legge del più forte, però c'è stato un preavviso e quindi l'onore è stato mantenuto. Poi dalle decisioni del presidente del paese invaso descenderanno le sorti della popolazione civile che a sua volta si è tenuta quel governo come rappresentante e ne è in un certo senso responsabile. Ci sono tanti livelli di consenso. Comunque, se pensi che sto divagando ti sbagli perché sto arrivando a quello che è veramente il punto cruciale di quello che succede oggi, in questo momento sotto il nostro naso. Comprendere l'universalità della legge del consenso, della legge del libro arbitro, è la base di quello che sto per dire e ti dimostrerò che l'elite criminale che governa il mondo sta seguendo questa legge fin dall'inizio e in ogni momento perché non può non seguirla. Pena il completo disonore. Pena il completo disonore davanti alle loro stesse leggi, davanti al loro stesso Dio, davanti al loro stesso Satana, comunque lo vuoi chiamare. Se non conoscessero questa legge universale e se non la seguissero scrupolosamente, il loro potere non sarebbe durato tanto fino ad oggi perché disonorare la legge del libro arbitro equivale all'autodistruzione, equivale al suicidio. L'universo sarà pure neutrale, ma l'universo reagisce sempre in favore del libro arbitro. È una legge che nessuno può disfare. Ecco perché Yahweh era obbligato a chiedere il consenso e faceva alleanze. Ecco perché i governanti oggi ci fanno votare. Non possono non farci votare. Perfino durante l'epoca di Stalin c'erano le votazioni. Ora, poiché hanno assoluto bisogno del nostro consenso, come si fa ad aggirare questa legge da parte loro, che la vogliono aggirare a preservare il sistema e a preservarlo, a mantenerlo, lo stato di cose presente. Hanno ideato un sistema perfetto, se ci pensi, che funziona sui principi. Avvertimento, come l'esempio che facevo prima, quando l'esercito notifica che ti sto per invadere, la dichiarazione di guerra. Avvertimento, silenzio e assenso. Se non mi rispondi, vuol dire che sei d'accordo. Peggio per te. Se la banca cambia le condizioni, cosa che fa in continuazione, è obbligata a mandarti il documento, come si chiama, di trasparenza bancaria. Quello è l'avvertimento. Se tu non rispondi, e sai quante persone non lo leggono neanche, quello è silenzio e assenso. Ma intanto loro l'avvertimento te l'hanno mandato. Tutta la storia del nostro mondo, da secoli e secoli e secoli, se non millenni, ha sempre funzionato secondo questo principio. Ora, come funziona questo principio? Innanzitutto dobbiamo capire le premesse, le premesse su cui si fonda tutto il sistema in cui viviamo oggi. Le leggi. Cosa sono le leggi? Tutte le leggi derivano da canoni. Canoni, da cui la parola diritto canonico. E infatti le leggi, tutte le leggi hanno a che fare in qualche modo, direttamente e indirettamente, con le leggi divina, le leggi ecclesiastiche. Però canone in particolare, sono norme o principi, che traggono valore dal fatto di non essere mai state contestate. Lo ripeto, norme o principi che traggono valore dal fatto di non essere mai stati contestati. Quindi eccole alcuni di questi canoni o di queste norme o principi, che sono riconosciuti universalmente validi perché nessuno ha mai detto che non devono essere. Molti di questi, come vedrai, sono largamente condivisibili e sono alla base del civile convivenza. Il 99% del diritto e delle procedure giudiziarie si basa sulla presupposizione di qualcosa, soltanto che il 99% degli esseri umani non si preoccupano di comprendere quali sono queste presupposizioni o non si preoccupano di rifiutarle. In altre parole, il sistema è ancora, adesso, basato sul sacramento della confessione, proprio come ai tempi dell'inquisizione. Cioè è indispensabile che tu accusi te stesso. In mancanza di questo atto di autoaccusa non si può procedere. Aspetta che adesso diventerà tutto chiaro. Forse questo è un audio che vorrei riascoltare almeno due o tre volte, perché alla fine scoprirai il filo logico di dov'è che voglio arrivare. E ti assicuro che non sto divagando. Un altro canone importante è che il diritto è gerarchico. Disscende sempre e comunque dal diritto divino. Soprattutto c'è il diritto divino. Il diritto in quanto tale discende dal divino creatore. Non lo dico io, eh. Lo dicono tutte le leggi esistenti. Sotto quello viene il diritto naturale. Sotto quello viene il diritto positivo, cosiddetto. Cioè le leggi, le varie tipi di leggi, nazionali, internazionali, amministrative, private, eccetera. Tutte appartengono al gradino più basso del diritto. Un altro concetto importantissimo, principio importantissimo da capire, è che ogni proprietà costituisce un diritto associato a un trust, cioè a un sistema fiduciario. Adesso te lo spiego. I potenti, l'elite mondiale, da sempre, sanno che la proprietà è un concetto fittizio. Come puoi avere proprietà di un pezzo di terra? La terra, i fiumi, i laghi, i mari, appartengono al pianeta. Quando tu non ci sarai più, continueranno a esistere anche senza di te. Come puoi possedere un pezzo di terra? Ma anche una casa. Come puoi fisicamente possedere una casa? Come puoi possedere fisicamente un'automobile? Tutte le cose per cui esistono titoli di proprietà. La terra, la casa, l'automobile. Questi titoli sono fittizi. Questi costituiscono diritto d'uso. Non puoi possedere fisicamente la terra, la casa, l'automobile, però puoi possedere un titolo di proprietà che in realtà costituisce diritto d'uso. Ok? Lo usi finché sei vivo. Cosa succederà con la terra, con la campagna? Quando tu non ci sarai tu. Quando tu non ci sarai più, in mancanza di precise disposizioni testamentarie, non dipende più da te. Così la casa fisica, quella fatta di mattoni, cemento e tutto il resto, e la casa intesa come titolo, cioè come sistema fiduciario, cioè come trust, sono due cose diverse. La casa intesa come trust, come sistema fiduciario, prevede che sono tre parti in gioco. Un esecutore, un amministratore e un beneficiario. L'esecutore è sempre quello che concede il titolo ed è sempre lo stato. L'amministratore è quello che amministra e il titolo, in questo caso è probabilmente il catastro. Il beneficiario, quello che poi effettivamente gode del bene, in questo caso sei tu, cioè il cosiddetto proprietario, fra virgolette, di quel bene. Ora, tutto questo che ti sto spiegando non c'è niente di male. Bisogna solo capire se e come lo stanno usando contro di noi. dovremmo tutti quanti iniziare a chiederci cosa si prova ad essere italiani. Perché noi italiani dobbiamo cominciare a svegliarci, dobbiamo cominciare a capire che abbiamo un debito carmico da ripagare nei riguardi del mondo molto molto pesante, che ci piaccia o no. Il nostro popolo è molto ricco di virtù, di talenti, di bellezza, di gioia, di freschezza e così via. Però, come si dice, ogni luce ha le sue ombre. Qual è quella caratteristica odiosa che tutti i popoli del mondo ci rinfacciano? Proprio a noi, italiani, gli abitanti di questa bella verde penisola. Esatto. È la mafia. È quella la caratteristica odiosa che ci rinfacciano. E cos'è la mafia? La mafia è la pigrizia. Tu non vuoi lavorare, vuoi lavorare alle spalle degli altri. È la furbizia, cioè l'assenza di un codice etico. La mediocrità, cioè io da solo sono una persona mediocre, però mi metto insieme agli altri e insieme ci facciamo forti. Questa è la mafia. È questa vocazione parassitaria di vivere sulle spalle degli altri. Questa è la mafia che tutti ci rinfacciano. Ora, cos'è la nostra classe politica oggi? Pigrizia. Non vogliono lavorare. Furbizia. Non hanno senso etico. Mediocrità. Da soli non valgono niente, però si coalizzano nel fare le cose insieme. Parassitari. Non c'è bisogno di commenti. Ora, quello che io ti domando, la nostra classe politica non è forse in un certo senso una nostra espressione è uno specchio di certe caratteristiche della nostra società. E allora io ti domando, apriamo io e te insieme libri di storia e domandiamoci com'erano gli antichi romani che hanno conquistato mezzo mondo e hanno disseminato il loro diritto, le loro regole del gioco in tutto il mondo. Gli antichi romani, se dobbiamo essere obiettivi, dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere persone che hanno capacità di autocritica, gli antichi romani erano pigri, furbi, mediocre e parassitari. E adesso te lo dimostro. Tu immagini una popolazione di culture avanzatissime come quelle che andavano a invadere, come, 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 come. Prendi gli antichi celti, per esempio, persone a parte tutte le conoscenze spirituali, religiose, astrologiche, astronomiche, eccetera, eccetera, ma persone con... I celti non scrivevano il diritto, non avevano leggi scritte. Per loro la parola era la legge e la legge era vivere in armonia con la natura e gli uomini gli uni con gli altri. Punto. Questa è la loro legge. Una delle culture più avanzate che esistesse da quei tempi e probabilmente ancora fino ad oggi. Ora, immaginare che queste popolazioni celtiche con un livello di cultura e di civiltà estremamente sofisticato, anche se non nei nostri occhi, si vedono invadere da queste legioni e legioni di antichi romani ignoranti e presuntuosi. Immagina che questi antichi romani dicono adesso questa è terra nostra. Ora, per i celti la terra non si può possedere. Per gli antichi celti della terra si può solo essere custodi. E essere custodi di un pezzo di terra non è un titolo, è una responsabilità. i celti avevano un sistema di rilevamenti periodici dove dovevano riferire al resto della tribù o del clan in che condizioni si trovava la terra, quindi se i confini erano in ordine, se le condizioni della terra erano ancora buoni, in salute, accettabili, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, immagina che arrivano da loro questi antichi romani e dicono noi da oggi iscriviamo queste terre in un registro. Questo registro lo conserviamo a Roma e il proprietario può essere solo un cittadino romano. Tu immagina la reazione dei celti. Probabilmente la prima reazione sarà stata state scherzando, è impossibile che state parlando seriamente. A parte che per i celti la legge come dicevo prima non si può scrivere, è un abominio scrivere la legge, ma l'idea di un registro della terra è un abominio. Eppure sul sistema dei registri i romani hanno creato il loro impero. L'impero romano è stato interamente costruito su un sofisticatissimo e cervellotico sistema di registri che intestano la proprietà della terra ammesso che questo sia possibile a nome di cittadini romani. Cos'è questa? Io la chiamo mafia. Prepotenza pigrizia parassitismo non portavano valore non volevano lavorare con le terre non volevano arricchire il valore di quei luoghi prepotenza pigrizia parassitismo noi italiani io e te abbiamo moltissimo da farci perdonare ma agli occhi di tutti gli altri paesi del mondo è veramente importante che qua ci cominciamo a svegliare e che il risveglio parta da noi così che noi ci si possa riscattare ora il bello è che l'impero romano non è ancora finito anzi l'impero romano non è mai finito non solo noi in Italia ma tutto il mondo vive ancora adesso in questo preciso momento nel sistema dell'impero romano il sistema dell'impero romano non è mai cessato ci sono state le invasioni di questi le invasioni di quegli altri quando sono arrivate le invasioni dei Longobardi e siamo nell'ottavo secolo il papa incorona come si chiamava Pipino il Breve al re dei franchi prima e poi dopo il figlio di Pipino il Breve cioè Carlo Magno l'abbiamo studiato a scuola Carlo Magno viene incoronato imperatore del sacro romano impero da parte del papa Leone III e quello è il sacro romano impero la diretta e ininterrotta discendenza dei metodi dei sistemi dell'impero romano la massima ambizione per Carlo Magno era diventare imperatore dell'impero romano che poiché da quel giorno è stato incoronato dal papa è diventato sacro romano impero bene il sacro romano impero è esattamente quello che noi abbiamo oggi ma ripeto non solo in Italia in tutto il mondo il sistema che abbiamo oggi di organizzazione della proprietà e quindi del diritto e quindi del denaro e quindi della politica e quindi del perché queste cose sono tutte collegate fra di loro e non si possono separare l'attuale sistema nasce nel 1302 che è la data della bolla papale una bolla papale scritta da Papa Bonifacio VIII che si intitolava Unam Sanctam Ecclesiam ora Bonifacio VIII è considerato uno degli uomini più corrotti e malvaggi di tutti i tempi non da me ma da Dante Alighieri che lo mette nel punto più profondo dell'inferno nella sua divina commedia Bonifacio VIII con questa bolla Unam Sanctam Ecclesiam creò il primo sistema di trust il primo sistema fiduciario dicevo che tutte le proprietà non sono in realtà proprietà in senso letterale ma sono in realtà in quanto titoli di uso autorizzazione all'uso ti ho fatto l'esempio prima della casa ecco questo sistema nasce per quanto riguarda i tempi moderni con questo sistema fiduciario creato da Bonifacio VIII cioè in pratica con questa bolla papale il Papa affermò che Dio aveva affidato tutti i titoli e tutte le proprietà della terra al Vaticano ok siccome ti ricordo uno dei canoni e principi fondamentali del diritto cioè che qualsiasi affermazione se non viene contestata diventa valida questa affermazione del Papa Bonifacio VIII non venne contestata e dunque divenne valida Dio affidato tutti i titoli e tutte le proprietà del pianeta al Vaticano che in questa bolla nominava l'esecutore l'amministratore e il beneficiario di questa struttura fiduciaria l'esecutore in questa bolla viene spiegato chiaramente chi è l'esecutore di questo atto c'è uno stemma ben visibile nella bolla che è quello dei frati minori francescani con sotto la bandiera dei gesuiti che originariamente venivano creati come parte dell'ordine dei francescani chissà per quale bizzarra ragione vabbè si era fatto in modo che Dio avesse incaricato i frati minori francescani che poi vabbè nella persona di questi di questa come posso dire ramo dei francescani che originalmente erano questi gesuiti fondati a Venezia in circostanze che sarebbe molto interessante approfondire ma magari questo lo rimandiamo questo è l'esecutore l'amministratore di questo trust è il papa i beneficiari di questo trust sono tutti gli uomini del mondo cioè come funziona cos'era questa dichiarazione questa affermazione papale diceva che praticamente ovviamente la bolla unam sanctam ecclesiam utilizza la metafora del diritto marittimo cioè del diritto dell'ammiragliato dice che la unam sanctam ecclesiam cioè l'unica santa chiesa prima e unica di tutti i tempi è l'arca di Noè dove la Bibbia ci racconta che tutto il resto del mondo era sommerso dall'acqua l'unica cosa che si elevava al di sopra di quelle acque era l'arca di Noè unam sanctam ecclesia ecclesiam dunque tutti gli esseri umani in quel momento poco al mondo era sommerso dall'acqua e la Bibbia lo certifica tutti gli esseri umani a partire da quel giorno sono considerati dispersi il mare e il Papa reclama tutta l'autorità tutta la proprietà sia spirituale che temporale fino a quando i dispersi coloro che sono dispersi per mare torneranno a reclamare i loro diritti cosa che fino ad oggi da 1300 ad oggi non è ancora successa perché tutte le nazioni contemporanee discendono ancora oggi da questo sistema giuridico e questo sistema si autogiustifica col diritto divino ecco perché non si può parlare di politica senza parlare di religione non si può parlare di economia e di finanza senza parlare di religione ma adesso ci arriviamo il secondo trust creato sempre in Vaticano è il Vaticano che ha creato questo sistema di questi tre trust sono tre trust consecutivi nel 1455 cioè 150 anni dopo la bolla di Bonifacio VIII e quindi evidentemente in 150 anni nessuno aveva ancora contestato la precedente affermazione papale questo trust è di natura testamentaria cioè il papa dispone che al momento della morte sua e dei futuri papi dispone come deve funzionare il diritto d'uso di tutti i privilegi di tutte le proprietà derivanti dalla bolla precedente di Bonifacio VIII e quindi qui viene creato questo nuovo trust in base a questa legge di cui l'esecutore è la curia romana l'amministratore è il collegio dei cardinali e il beneficiario questa volta è il re sulla terra di proprietà del papa allora ricapitolando Dio ha dato tutto il mondo al papa il papa con questa bolla concede pezzi di questo mondo ai re per cui da quel momento i re del mondo diventano per mandato divino diventano re per mandato divino e questa in civica si chiama ed è 1455 si chiama Romanus Pontifex e fu emanata da papa Niccolò Niccolò V in cui si diceva anzi guarda ti leggo proprio un pezzo vediamo se lo trovo poiché abbiamo concesso precedentemente con altre lettere nostre fra le altre cose piena e completa facoltà al re Alfonso di invadere ricercare catturare conquistare soggiogare tutti i saraceni e qualsiasi pagano e gli altri nemici di Cristo ovunque essi vivano insieme ai loro regni educati principati signorie possedimenti e qualsiasi bene mobile e immobile che sia di loro proprietà e di gettarli in schiavitù perpetua e di occupare appropriarsi e volgere ad uso e profitto proprio e dei loro successori tali regni educati contè principati signorie possedimenti e beni in conseguenza della garanzia data dalla suddetta concessione il re Alfonso qui il papa Niccolò V si riferiva al re Alfonso di Portogallo stava concedendo il Portogallo al re di Portogallo il re Alfonso o il detto infante a suo nome hanno legalmente e legittimamente occupato le isole terre porti acque e le hanno possedute e le posseggono ed essi appartengono e sono proprietà deiure del medesimo re Alfonso e dei suoi successori possano compiere e compiano questa pia e nobilissima opera degna di essere ricordati in ogni tempo che noi essendo da essa favoriti la salvezza delle anime il diffondersi della fede e la sconfitta dei suoi nemici consideriamo un compito che concerne Dio stesso la sua fede e la chiesa universale con tanta maggiore perfezione in quanto rimosso ogni ostacolo diverranno consapevoli di essere fortificati dai più grandi favori e privilegi concessi da noi e dalla sede apostolica quindi questo è un estratto dalla bolla Romanus Pontifex di Papa Romano V il terzo trust consecutivo creato al Vaticano accade appena trent'anni dopo nel 1481 Papa Sisto IV si intitola Eterni Regis ti sto dando tutti i nomi in cognomi così puoi andare a fare le tue ricerche per favore non credere a niente di quello che ti dico io perché l'ho detto io fai le tue ricerche e fai le tue verifiche con questo terzo trust Papa Sisto IV diciamo un po' è la stessa cosa del precedente però qui il bene oggetto del trust non è più la terra che viene concessa dal Vaticano ai monarchi ma sono gli esseri umani che abitano quella terra che da quel momento vengono considerati incompetenti incapaci dunque soggetti ad amministrazione coatta in realtà questa ultima bolla di Papa Sisto IV realizza la visione illuminata di Bonifacio VIII per cui gli esseri umani sono dispersi in mare nulla ci appartiene siamo in bancarotta perché non siamo mai tornati a reclamare i nostri averi e quindi siamo in uno stato di amministrazione coatta dove è lo stato che si deve prendere cura di noi per il nostro bene questo è il sistema in vigore ancora oggi e te lo sto per dimostrare ora fra parentesi io ti ho citato i contenuti di queste tre bolle e tu puoi naturalmente fare tutte le tue ricerche e vedrai confermato ciò che ti ho appena raccontato però fatto sta che gli originali di queste bolle non sono visibili questo perché fino al diciottesimo secolo il Vaticano scriveva le proprie bolle non su carta che era considerata un mezzo privo di vita e quindi privo di valore si considerava a quei tempi cioè fino a due secoli fa fino a pochissimo tempo fa che un documento per essere valido doveva essere scritto su un documento vivente era firmato con il sangue ed era scritto su una pergamena fatta di pelle umana se quello che ha appena affermato ti sembra assurdo e dici oddio non può essere vero numero uno fa le due ricerche numero due la recente firma del trattato di Lisbona che è un crimine riguardo all'umanità su cui si potrebbe discutere all'infinito solo su questo di come gli stati hanno ceduto tutti i diritti dei loro popoli a questa fittizia Unione Europea vabbè ma questo diciamo togliamolo di mezzo questa recente firma del trattato di Lisbona c'è stata la ratifica inglese firmata di persona alla regina Elisabetta che ovviamente essendo lei di sangue blu non poteva firmare un documento morto letteralmente lei non poteva è una regina non può farlo quindi la ratifica inglese al trattato di Lisbona è arrivata sotto forma di pergamena di pelle di capretto se cerchi online trovi ancora adesso la notizia su tutti i giornali magari ti aiuta a conoscere l'inglese pelle di capretto si dice goat skin tu leggi Lisbon Treaty goat skin e vedrai che la regina Elisabetta ha firmato probabilmente col sangue su una pergamena fatta di pelle di capretto ora questa è storia anzi questa è cronaca recentissima in particolare la storia ci tramanda che le bolle papali in particolare erano scritte su pelle di bambini questo spiegherebbe perché sarebbe imbarazzante probabilmente per il Vaticano mostrarci le originali continuiamo fra 15 secondi mi riferisco specificamente alla setta perché non so come altro chiamarla che detiene il potere all'interno dello Stato del Vaticano e se non sono gli stessi cristiani con la C maiuscola e cattolici con la C maiuscola che non imparano e non indagano e non investigano a fare questa distinzione fra cosa significa la fede in un Dio creatore fatto di bontà e cosa significano quello che accade fra le mude e il Vaticano noi non faremo progressi non faremo progressi in Italia non faremo progressi agli occhi del resto del mondo perché quando andiamo a indagare il sistema politico il sistema economico quello che sta accadendo adesso in questi nostri occhi non è separato da tutto il resto non si può separare religione politica economia finanza spiritualità e tutto il resto e il punto che volevo arrivare è che oggi incredibile ma vero viviamo ancora nello stesso sistema viviamo ancora in questo stesso sistema che ho appena delineato con queste tre consecutive bolle papali è in vigore oggi questo sistema non è ancora stato sfidato da nessuno nel 1933 c'è stata la bancarotta concordata di tutte le nazioni del mondo che hanno azzerato i propri debiti e hanno conferito hanno proibito a tutti gli esseri umani di possedere oro lo hanno concentrato nelle mani delle stati e gli stati hanno conferito tutti il proprio oro in un unico pool o deposito fondo globale collaterale mondiale per custodire il quale è stata fondata la BIS la Bank for International Settlements la banca per transazioni internazionali ho parlato di questo per filo e per segno nell'episodio 6 quindi se hai dubbi vattelo a riascoltare è tutto spiegato lì questo processo che accade nel 1933 è un punto di svolta fondamentale nella storia recente di cui nessuno parla ma è il più importante nella storia del secolo scorso 1933 non solo Hitler saliva al potere tutti ce lo ricordiamo per quello ma le nazioni concentrarono tutto il loro oro in un unico pool mondiale fu fondata la BIS la banca per le transazioni internazionali che ha sede a Basilea in Svizzera e fu fondata e controllata indovina un po' dai gesuiti dai cavalieri di Malta l'ultima volta che ho controllato il direttore generale della Bank for International Settlement ha un cognome maltese Caruana conosco benissimo perché vivo qui a Malta conosco il cognome è tutto scritto sul sito della BIS perché loro ti dicono tutto ti devono avvertire di tutto tu hai il diritto di sapere è sempre la legge del libro arbitrio ed è sempre la legge del consenso se tu guardi loro ti dicono tutto nel 1933 tutte le nazioni furono messe in bancarotta l'oro mondiale fu concentrato nella BIS le nazioni diventarono società di diritto privato registrate presso la SEC di New York SEC è la Security and Exchange Commission che è più o meno l'equivalente dal nostro CONSOB cioè l'organismo che ha il compito di vigilare sulle securities e sulla borsa valori sostanzialmente queste società di diritto privato chiamate nazioni fammelo ripetere apparentemente pubbliche apparentemente nazioni ma in realtà società di diritto privato possiedono oggi il diritto di proprietà sulle persone nate in quello stato lo ripeto proprietà sulle persone nate in quello stato in base alle tre bolle papali che abbiamo appena finito di osservare insieme allora quando ho letto questa informazione mi sono detto non è possibile le altre non certo l'Italia non certo l'Italia che è una repubblica democratica fondata sul lavoro non può essere una società di diritto privato quotata in borsa l'Italia no forse si riferivano all'Australia si riferivano all'America e si riferivano all'Inghilterra bene signore e signori mi ci sono voluti tre minuti di ricerca e sono bastati sul sito della SEC per trovare la registrazione e il numero di registrazione di Italy virgola Republic of Repubblica Italiana Company Registration Number 0000 5272 e ti ho messo il link ti ho messo il link fra le risorse consigliate puoi andare anche a vedere tu la pagina in cui la compagnia di diritto privato chiamata Repubblica Italiana è quotata è depositata presso la SEC qui c'è scritto pure ti leggo business address è ministero dell'economia e delle finanze via 20 settembre 1997 ad oggi mailing address è presso studio legale Bisconti Viale Salandra 18 in Roma e qui ci sono tutti i dati tutti i documenti tutti i report annuali tutto quello che è successo tutte le cessioni di quote e tutto può andartelo a vedere ti ho messo il link e quindi questa credo che dovrebbe essere sufficiente a dimostrare una volta per tutte che quella in cui viviamo è non è la Repubblica Italiana come ci hanno insegnato a scuola ma è una società di diritto privato una private company chiamata Repubblica Italiana e spero che tu ti rendi conto della gravità di quello che ho appena detto lo Stato cioè questa azienda privata che ci fanno credere che sia uno Stato che ci fanno credere che sia la cosa pubblica possiede il titolo di proprietà sulle persone nate nel suo territorio in base alle tre bolle papali che abbiamo appena osservato insieme però se ti ricordi bene quando dico che possiede proprietà sulle persone se ti ricordi bene dicevo che la proprietà costituisce un diritto associato a un trust perché i potenti sanno che la proprietà in senso stretto è un concetto fittizio ed è impossibile possedere fisicamente altre persone quindi come puoi possedere la terra le case l'auto come puoi possedere le persone bene puoi possederle tramite un titolo di proprietà che te ne conferisce il diritto d'uso per incredibile che possa sembrare questo è esattamente quello che accade proprio adesso al momento della tua nascita senza avvisarti è stato creato un trust cioè un sistema fiduciario che ha per oggetto la tua esistenza in vita e i tuoi genitori hanno avvallato e firmato questo trust e io ho firmato e avvallato questo trust fatto ai danni dovrei dire dei miei figli senza essere avvisati è proprio negli anni 30 guarda caso che diventava obbligatore registrare le nascite perché oggi non puoi dire no non lo voglio registrare benché questo poi lo vedremo magari in un prossimo episodio fatto sta che i tuoi genitori firmando e riconoscendo ti hanno consentito e qui torno al discorso il consenso perché in questo mondo niente si fa senza il nostro consenso è stato dato un consenso però in questo caso senza essere debitamente informati ed ecco la frode ecco perché questo sistema è fraudolento però il sistema è sempre quello a suo modo mantiene l'onore loro ti avvertono poi sono fatti i tuoi silenzio assenso loro possono procedere in realtà il certificato di nascita è un avvertimento il certificato di nascita è la costituzione di una personalità giuridica fittizia che non appartiene a te ma appartiene a loro se pensi che il certificato di nascita appartenga a te prova ad andare in qualche anagrafi a chiederlo vedrai che non c'è nessun modo al mondo di riceverlo ti possono dare l'estratto dell'atto eccetera eccetera non il certificato di nascita il certificato di nascita appartiene a loro perché la persona giuridica fittizia che è descritta in quel certificato di nascita non appartiene a te ma appartiene a loro come a dire che fai attenzione da questo momento quindi da questo momento dalla tua nascita esiste l'essere umano fisico che sei tu e la persona che non sei tu ma che è una finzione giuridica ma che è un trust e che è un sistema fiduciario che ha per oggetto la tua esistenza in vita questo trust guarda caso è creato in base alla legge marittima o la legge dell'ammiragliato che trascende le leggi delle singole nazioni e che è la giurisprudenza segreta dei potenti di cui abbiamo parlato in un precedente episodio in questo trust che viene fatto su di te o sulla tua esistenza in vita al momento in cui tu nasci chi è l'esecutore l'esecutore è sempre un organo dello stato chi è il beneficiario attenzione di questo certificato di nascita cioè di questo trust è la società di diritto privato chiamata repubblica italiana un'azienda beneficiario di cosa? bene questo è l'aspetto più importante è presto detto di cos'è beneficiario lo stato italiano è beneficiario di un bond cioè un titolo che viene messo al momento della tua nascita che attualmente viene stimato approssimativamente intorno ai 2 milioni in pratica lo stato crea alla tua nascita 2 milioni un bond o titolo è il collaterale di questo bond e di questo denaro praticamente il collaterale è la tua esistenza in vita cioè il tuo certificato di nascita cioè il tuo lavoro futuro il fatto che si presuppone che tu da quel momento in poi lavorerai funge da collaterale ecco qui come ti hanno schiavizzato funge da collaterale di quei 2 milioni il tuo bond che ovviamente non è tuo ma partiene a loro viene depositato alla SEC come security ed entra a far parte del patrimonio di quella private company che noi chiamiamo fraudolentemente repubblica italiana ora questo è abbastanza scioccante beh spero di sì però ti ripeto non crederci perché te l'ho detto io ti invito a non credere niente perché lo dico io fai per favore date le tue ricerche perché il bello deve ancora arrivare fino ancora ti ho detto fino ad ora ti ho detto chi è l'esecutore di questo trust e ti ho detto chi è il beneficiario di questo trust ma non ti ho ancora detto chi è la terza parte perché per dar vita a questa finzione giuridica è obbligo che ci sia un amministratore cioè uno che per contratto il contratto sarebbe il trust si assume l'obbligo di prendersi cura del bene che è oggetto del trust il bene oggetto del trust è la tua esistenza in vita chi è che si fa avanti come amministratore e si assume l'obbligo di prendersi cura di questo bene ogni qualvolta che qualsiasi autorità qualsiasi autorità dal vigile urbano al giudice della corte costituzionale ti domanda è lei pinco pallino punto interrogativo e tu rispondi sì in quel preciso momento tu ti sei autonominato amministratore di quel trust sei caduto nel tranello in cui ti hanno messo fin dalla nascita perché loro nella finzione ti hanno fatto credere hanno sempre voluto farti credere che tu sei l'amministratore di quel trust nella realtà invece tu e quel trust che porta il tuo nome siete due entità completamente distinte e separate l'essere umano che sei tu pinco pallino si scrive con le iniziali maiuscole e tutte le altre lettere minuscole la persona giuridica invece fittizia si scrive tutta con le lettere maiuscole guardati in tasca apri la tua borsetta vai nel portafoglio vai nei cassetti dove tieni conservato il passaporto apri tutti i tuoi documenti passaporto carta di identità patente codice fiscale codice sanitario non troverai non troverai uno solo di questi che non sia scritto tutto a lettere maiuscole va in banca domanda l'impiegato le dispiacerebbe scrivere il mio nome con l'iniziale maiuscole e le lettere minuscole quello potrebbe essere così ignorante da provarci ci prova e ti risponderà è impossibile il sistema non è in grado di scrivere le sue lettere il suo nome a lettere minuscole il 99% del diritto delle procedure giudiziarie è basato sulla presupposizione si presuppone che qualcosa sia vero e nessuno mette in discussione quella presupposizione e in altre parole l'ho detto prima adesso lo ripeto forse per te avrà un significato diverso il sistema è ancora basato sul sacramento della confessione esattamente come i tempi dell'inquisizione per funzionare il sistema ha bisogno che tu accusi te stesso e torniamo al discorso del consenso il sistema non può funzionare senza il tuo consenso senza il tuo libero arbitrio è indispensabile che tu accusi te stesso di cosa? del peccato originale cos'è il peccato originale? è la frode è l'utilizzo di un nome che non ti appartiene da quando tu sei nato il nome scritto tutto a lettere maiuscole è una proprietà intellettuale dello Stato e loro ti hanno messo in condizioni di usare fradolentamente un nome che non ti appartiene allora sei nato privo di diritti sei nato in bancarotta perché la tua vita e il tuo nome la tua esistenza in vita sono amministrati e sono gestiti da altri che non sei tu sei da quando sei nato in un regime di amministrazione controllata dove il tuo nome non appartiene a te ma appartiene ad altri ancora peggio secondo il codice dell'ammiragliato il codice marittimo sei nato disperso in mare e questo che dicono le bolle papali e tutto il diritto attuale si basa su quelle bolle papali tu sei nato attraverso il canale uterino sei caduto in acqua sei disperso in mare e non hai mai raggiunto la terraferma cioè non hai mai potuto alzarti in piedi e dire io sono un essere umano libero davanti a Dio perché loro è usando la giustificazione di Dio che fanno di te quello che vogliono sono loro a usare la parola Dio sono loro a chiamare in causa Dio sono loro che hanno chiamato sono loro che hanno tradotto la Bibbia usando il termine Dio che originariamente non c'era scritto nella Bibbia il diritto è sempre di provenienza divina noi siamo creature divine e loro lo sanno bene non possono creare un diritto fittizio hanno assoluto bisogno di far discendere il loro diritto da Dio quindi loro usano questo Dio se tu usi il loro stesso Dio ti sei autodefinito incapace non so se riesci a capire la perversità la perversità di quello che sto dicendo ti hanno messo in condizioni tale per cui se tu utilizzi quello che loro ti hanno detto di utilizzare è come se in un certo senso hai confermato che sei incapace di prenderti cura di te stesso ti faccio un altro esempio loro usano una società di diritto fingono che sia uno stato cioè un ente pubblico in realtà è una società privata chiamata Repubblica Italiana e lo usano per fare business con te cioè con quell'entità fittizia che è appoggiata a te e che ha il tuo nome tutto scritto a lettere maiuscole ora se tu accetti questo presupposto ti sei autodefinito incapace c'è persona che ha bisogno di essere amministrata perché tu non sai neanche chi sei ogni autorità deve prima ripeto dal vigilo urbano al giudice della corte costituzionale deve prima chiederti qual è il tuo nome e tu devi rispondere altrimenti non ti può neanche toccare con un dito non avrebbe la giurisdizione per farlo ovviamente parliamo di diritto privato amministrativo commerciale tributario eccetera eccetera se ammazzi qualcuno è ovvio che ti arrestano e le domande te le fanno dopo e fanno anche bene se per questo però il principio di base non cambia i loro tribunali sono tribunali di diritto privato i tribunali sono tribunali aziendali perché l'Italia è un'azienda se ti chiedono lei è pinco pallino e tu rispondi di sì tu ti sei autodefinito incapace ai loro occhi il denaro le banconote di euro loro ti hanno avvertito sopra c'è scritto questa è una proprietà della banca centrale europea ti hanno avvertito il denaro non è tuo se tu bruci il denaro quello è reato ti arrestano il denaro non è tuo è loro ti hanno avvertito se tu accetti di usarlo ti sei autodefinito incapace incompetente ai loro occhi quanti altri esempi ti devo fare hanno creato un sistema di governo che loro chiamano la cosa pubblica e invece una cosa privata che include partiti parlamento governo elezioni se tu accetti di partecipare a questo gioco ti autodefinisci incapace e incompetente ai loro stessi occhi come puoi pretendere di cambiare in meglio una cosa che non appartiene a te ma appartiene a loro fin dall'inizio ora se tutto questo che abbiamo stabilito fino ad ora è chiaro e io ti invito a fare le tue verifiche su questo rimangono solo due interrogativi uno cosa possiamo fare individualmente da persone singole per sottrarre il nostro consenso a questa frode che ci vede i protagonisti fin da quando siamo nati e questo potrebbe anche includere mettere in salvo le nostre cose le proprietà che la banca l'equitalia e così via ci vogliono portare via perché siamo indietro con i pagamenti delle tasse che sarebbero fittizie perché non siamo noi a dovere le tasse ma è la persona giuridica scritta tutta quanta a lettere maiuscole a livello individuale possiamo salvarci utilizzando le loro stesse leggi in maniera tale che siano loro a cadere in disonore e non noi a cadere in disonore perché tutto il sistema è architettato in maniera tale che siamo sempre noi a cadere in disonore a utilizzare un nome che non ci appartiene a utilizzare strutture che non ci appartengono e così via alla fine siamo sempre noi che cadiamo in disonore ma conoscendo la legge possiamo individualmente fare qualcosa che faccia cadere loro in disonore e costituire un rimedio per la nostra situazione e questa è la prima domanda la seconda domanda è cosa possiamo invece fare collettivamente per creare un'alternativa a questo sistema che è marcio che è fraudolento e che è stato ideato al loro favore non al nostro favore come possiamo modificarlo se non ci appartiene? possiamo soltanto smettere di partecipare di questo ci occuperemo nel prossimo episodio non si possono trattare separatamente denaro problemi economici la crisi economica eccetera eccetera la politica cioè il modo in cui si prendono decisioni la religione e il diritto non le possiamo trattare separatamente queste materie perché per loro sono la stessa cosa o si trova rimedio per queste quattro cose come se fossero una sola oppure non si fa altro che rimandare il problema non risolverlo e ingigantirlo sempre più così ecco le risorse di questa settimana ti ho messo il link diretto e anche un piccolo screenshot alla pagina nel suo sito della SEC Security and Exchange Commission che è la prova schiacciante ed è la pistola fumante che l'Italia è un'azienda privata depositata presso la SEC di New York e quindi i suoi leggi sono leggi aziendali i suoi tribunali sono tribunali aziendali i suoi organi sono organi aziendali e così via e quindi e quindi e quindi e quindi e quindi